È un momento importante, nel 2015 e 2016 noi abbiamo pensato che ci sono degli ospiti che vengono a trovarci da tanto tempo e quindi abbiamo voluto dire una cosa importante a loro. Voi tutti avete scelto Cavallino Treporti per le vostre vacanze da tanto tanto tempo e quindi siete un po' nostri concittadini e questa cosa per noi è importante e quindi volevamo riconoscere questo legame prezioso che c'è con voi. Quindi per un anno voi sarete dei nostri concittadini particolari che parlerete di noi a casa vostra. Ora passiamo alla vela proclamazione degli ambasciatori Cavallino Treporti. Il signor Gunther Ralle, residente in Germania a Delmenhorst, è ospite nel nostro territorio dal 1974. Nel corso degli anni ha promosso il nostro territorio nel suo paese e portato nuova clientela al villaggio. Grazie per la visione! Grazie per la visione!